Mi chiamo Vincenzo Anzalolo, sono della classe 1949, ho fatto il panificatore dall'età di 12 anni, garzono, ho gestito, ho fatto un porno di mia proprietà e che poi le cose non sono andate bene e adesso mi ritrovo in una situazione disastrosa, che non posso andare più avanti, qualche volta, qualche lavoro saltuario faccio, però sempre sottopagato e malmesso. Comunque, ditemi voi, in queste condizioni, come deve andare avanti? All'impine di qualche anima voi, se vuol provvedere alla mia situazione, perché così, in democrazia, penso che non si può tirare avanti. Tutti quando abbiamo bisogno di qualcosa, la mattina quando esci sono, come dicevano i vecchi antichi, purtroppo no, pensiamo che non vengono niente, non vengono niente.